Allora c'è un cowboy che dopo tanto tempo riesce a essere catturato dagli indiani gli indiani lo portano al villaggio e praticamente per allungare la sua agonia gli dicono che lo terranno per tre giorni prima di ammazzarlo però ogni giorno ci avrà un desiderio da esaudire allora che fa? il primo giorno arrivano gli indiani e fanno così qual è il tuo desiderio? quello fa voglio parlare col cavallo gli portano il cavallo, lo si avvicina al cavallo gli va all'orecchia gli dice una cosa all'orecchia il cavallo via schizza via dopo dieci minuti si vede ritorna al cavallo con una figa sopra bionda con tutette così bellissimo scende dal cavallo, lui la piava in mano e sta alla porta a Nathem e il giorno dopo, la vanna risveglia secondo giorno, qual è il tuo desiderio? voglio parlare col cavallo gli riporta un'altra volta il cavallo lui avvicina l'orecchia gli dice una cosa all'orecchio e il cavallo schizza ritorna dopo mezz'ora con una vregna ancora meglio della prima mora tutta formosa scende dal cavallo, lui piava in mano e sta alla porta a Nathem e il terzo giorno, è l'ultimo gli indiani gli fanno così questo è il tuo ultimo giorno esprimi il desiderio voglio parlare col cavallo gli riporta nel cavallo stavolta invece di andare davanti all'orecchia gli si mette davanti al muso lo guarda nell'occhio e gli fa così cavallo da merda guarda il labiale ho detto fuga sposavo ha 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 ha